L'avvocato Angelo D'Abramo, già sindaco di Leporano, ora siede tra i banchi dell'opposizione, ha perso le elezioni per soli 120 voti. Ora, che tipo di opposizione intende porre in essere? Un'opposizione che sarà molto attenta e vigile su quella che è l'attività di questa amministrazione. Noi comunque saremo sempre a fianco della popolazione, porteremo avanti e seguiremo i lavori che già avrebbero dovuto farci fare nel 2018 e che ci bocciarono in Consiglio Comunale. Quindi saremo molto attenti affinché questi lavori siano realizzati e in Consiglio Comunale noi avremo la responsabilità nei confronti di tutti i cittadini, il 65% che oggi ha l'opposizione rispetto al 33% che è chiamato per legge a governare questo Paese. Quindi abbiamo tantissima responsabilità e abbiamo questo honor e questo dovere di portare avanti nel bene della comunità.